Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Oggi vi mostriamo come funziona la condivisione del vostro abbonamento PlayStation Plus con gli altri account presenti nella vostra PS5. Ma prima di iniziare, vi invitiamo a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e a seguirci sui nostri profili social che trovate in descrizione. Andate sul menu impostazioni che trovate in alto a destra della vostra home page. Selezionate utenti ed account, scorrete in basso fino ad altro e cliccate su condivisione console e riproduzione contenuti offline. Di default, questa opzione è attiva. Nel caso in cui doveste avere un'altra PS5 nella vostra seconda casa, potrete condividere l'account esattamente come si faceva con la vecchia PS4. La console con attiva l'opzione di condivisione potrà usufruire dei contenuti anche offline, l'altra solo quando sarà in presenza di una connessione internet. Adesso vi facciamo vedere una piccola dimostrazione avviando un gioco scaricato dal PlayStation Plus su un secondo account presente nella nostra console che non attivo l'abbonamento. Grazie per averci seguito. Un saluto dai Crew Dudes.